buongiorno buona giornata soprattutto buon inizio di settimana a voi tutti cari amici dal vostro sottoscritto nicola de lucia in questo primo video di oggi perché almeno due ce ne saranno forse anche tre vediamo un po parliamo dell'inder e come vedete dal dal mister lukaku in copertina di questo video proprio lui a trascinare i nero azzurri a udine perché appunto grazie a una sua doppietta nel giro di meno di 10 minuti permette a nero azzurri di rimanere ben saldi in corsa al primo posto che però al momento occupato dalla juve le segnature di lukaku sono state realizzate tutte nel secondo tempo al sessanta quattresimo su assist di barella e al settantunesimo su penalty vedo qui dalla fonte presenta lo stadio dacia arena 23.215 spettatori segno 1 cioè scusate segno 2 quotato tra l'1 e 80 l'1 e 90 quindi inter come ho detto al secondo posto a 51 punti che finalmente dopo tre pari di fila torna a vincere però c'è da considerare che la lazio dovrà recuperare tra due giorni la partita contro il verona quindi in caso di vittoria biancocelessa andrebbero a superare l'inter a quota 52 comunque il prossimo impegno dell'inter sarà domenica come vi ho preannunciato già ieri nella stra cittadina milanese contro il milan che non va oltre il bareggio con l'udinese quindi è all'ottavo posto nella cerchia delle squadre a 32 punti dove ci sono cagliari parma milan e c'è lì il verona il bologna che insegue una quota 30 punti ovviamente senza dimenticare il napoli che questa sera sarà impegnata sul campo della sampdoria che lotta per non retrocedere quindi chiudiamo il videoclip ribadendo Lukaku con una sua doppietta porta i suoi compagni di squadra a tornare alla vittoria ai tre punti inter sempre in corsa sulla juventus che al momento ha più tre sono a più tre i bianconeri dall'inter ma ricordiamo che nel giro titolato se così possiamo parlare può rientrare anche la Lazio che questo mercoledì recupererà la partita all'olimpico contro il Verona udinese 0 inter 2 doppietta di Lukaku ci vediamo tra un po' per la prima vittoria casalinga della stagione del Lecce ciao